Questo è il primo aereo nel mondo solo business class Ma quanto costa un volo su questo aereo? Qua al posto abbiamo le coperte e il cuscino Ovviamente tutto il posto è reclinabile, puoi allungare le gambe Fino a questa zona Cuffie per il viaggio, acqua e calze e spazzolino e dentifricio comprese, più delle creme Ti danno le cuffie e devo dire che non sono niente male Per pranzo, cavolfiore, aglio nero, rafano, ravioli con ragù la borghese Davvero molto buoni Proviamo questa mousse tartufata Anche questa, ottima Un sacco di spazio per le gambe e per lavorare Diversi film tra cui scegliere I prezzi non sono niente male Un volo Milano-New York nella stagione giusta parte da 500 euro La compagnia super approvata